In questo nuovissimo video, come avete letto nel titolo, sì, farò una partita in Minecraft e dovremmo ucciderci a vicenda tra me e mia sorella. Allora, ci siamo presi un paio di roba a vicenda, casino di roba, fare un combattimento e sarà veramente pesantissimo. Mamma mia, io non vedo la... Ah, so che ha preso un cavallo perché l'ho vista, solo che io non la vedo più. Dov'è? Ragazzi, la vedete? Diventa anche notte, il combattimento serio diventerà... Non la vedo, dov'è? L'ho vista! Ci dovete aver visto una roba bianca. No, erano delle pecole forse. Dov'è finita? Aspettate che mi prendo delle torce. Non è che si era... Ah, che si è diventato tipo... No dai, dov'è? Che video è così? Cioè, non arriva neanche alle spalle? Ok, un po' di qui. Oh, che torata. Dov'è finita? Ok, dove... Silence. Da dietro, ragazzi, non mi vede. Il cavallo è qua. Ragazzi, allora... Ragazzi, ragazzi, vai, all'attacco, all'attacco! Ho sentito di strani rumori, ragazzi. Io mi arretro. Cos'è quel rumore? Non dimmi che ha rotto il totem. Ragazzi, mi sto... Sto... Ti ho visto, eh? Ai! Ragazzi? Buttata giù! Lei è il mio stesso skinner, non... Fateci caso. Building, building, building. Ok, l'abbiamo sotto tiro. Non può scappare da qua. Avrà poca vita? Mi faccio schifo con l'arco. Ragazzi, iscrivetevi e lasciate un mi piace, eh? Tu, 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 tu. E qua sotto. Ok. C'è qua dentro. Dov'è? Dov'è? Ah. Ragazzi, ti ho preso nessuno. Così prendiamo un po' di quota. Prima kill, ragazzi. La prima kill. Lo stia è chiusa bene. Adesso io provo da che lei mi trova. Qua. Ho già legno. Qua è finito. Eh, vedi? C'era il creeper. L'hanno espluso. Chissà dove è finita adesso. Che partita, ragazzi. 1-0. 1-0. Segnatevi 1-0 per la partita. Qua ha preso fuoco gli alberi. Ma chissà dove... Adesso è più difficile essere a trovarla. Su, su, su. Per il camino. Su, su, su. Su per il camino. Ok, ragazzi. Ah, mi ha sprecato un po' di legnetto. Prendiamo un'altra legna. Chissà dove è finita. Non so dove sia. Sali. Ok. Let's go, ragazzi. Let's go. Let's go. Chissà se la ritroveremo dopo questa kill. Chissà dove è finita. Spero che non sia andata troppo lontana. Eccoci, ragazzi. Guarda quanto hanno buildato. Capre di montagna. Ditemi dove è finita la Lucrezia. No, però sono neanche loro. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho visto una scrittina. L'avete visto ancora? È sparita. Chissà, ragazzi. Chissà, ragazzi. Ah, l'ho usato male, sì. Meglio colarmi perché sono qua male. È finita? Sarà qua dentro? No, io ho visto il nome di andar di là. È qua? Oh, scudiamoci, amico. Ragazzi, tecnica. Ragazzi, ho trovato un portale intanto. Cioè, non riesco a trovare mia sorella. Eh, cazzo. No. Tutto, tutto, tutto. Oh, schifo. Non so, questa nuova di un'altra. Non lo so, sto comunque cercando. Non riesco a trovarla. Cioè, cosa sei? L'ho sotterrata. Dove, 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 dove è? Dove è? Dai, ragazzi. Dove la posso trovare, quella là? Trovo i lupi. Trovi le volpi bianche, ma non trovi lei. Dove sei andata a cacciarsi? Prima, intanto che cercavo, mi stavo sproponando nella neve. Dai, Lucrezia, dove sei? Tutto. La neve, la neve, ragazzi, 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 ragazzi. Sarà la quarta volta che mi sa. Ragazzi, non so dove andare. Dove c'è una cascata? Ragazzi, sto profondando. C'è tipo cinque metri di neve sopra di me. Cascata. Io cerco una cascata. Cascata, cascata. Andiamo al punto alto. Quando ci sono cascate, proviamo a andare da quella parte. Ragazzi, sto morendo nella neve. Hai detto, cascata, cascata. No, vedi. Ragazzi! È bello aperto. Questa neve nevosa mi sta distrumpendo. Non riesco a trovare nessuno. Opla. Non mi fido a scendere. Cascata, cascata. Cascata, cascata. Spacca. Cascata. Dov'è questa cascata? Trovo le zucche, però non trovo le cascate. Ok, non mi sono fatto niente. Ok, strano. Ragazzi, l'unico... Dove non sono andato a vedere è qua. E c'è un sacco di acqua. È sotto terra. Oh, ragazzi, ho visto il nome? Sì, ho visto il nome. Ho visto il signor nome qua. Sì, ho visto il signor nome. Da, sali! Opla. Oh, no, 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 no. Ma, signori, ho visto... Ho visto scomparire il nome. Però, ho visto anche una pezione. Ok, ho un po' di luce. Qua non c'è. È finito! Dai, dov'è? Sì, non può essere andato lontano. Sono fuori. Mi sto morendo. Dai, sali, cioè... Non riesco a salire. No. Dai, no, ragazzi. Non si riesce a salire con l'acqua? Ecco, ho finito pure la legna. Devo prendere questa. E dopo se mi assecco. Non trovo nessuno. No. Questa parte. Sono passata. Ma... Ah, no, non può essere qualcuno qua. A destra. Ok. Sembra che lui mi può vedere. Lei mi può vedere. A destra. Sono anche a destra. Pup! Ti ho visto. Di qua. Dove? Ah, la volpe ha picchiato... Ragazzi, c'è un armato invisibile. Vai. Un'armatura invisibile. C'è? C'è? Cosa volevo dire? Allora, ragazzi. Non so più... È sparito. Non so, ritorniamo un po' fuori a vedere. Vediamo. Vediamo l'acqua qua. C'è una cascata. Perché ci sono dei TNT? Porca. Via, 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 via. In acqua. Solo una esplosa? Sì. 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 Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Guarda il tunnel che si è fatto. Vediamo. Dove usciva? No, rimaneva qua. Oh, mamma mia. Allora, secondo me per oggi basta. 10 like se volete la seconda parte di questa grandissima battaglia. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.